Un nuovo anno scolastico che inizia ma che non nasconde certo la crisi che vive il mondo dell'istruzione. Tra le cause fondamentali una determina tutte le altre. Ne è convinto il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Rivello, Corrado Limongi. La crisi è nata, al nostro avviso, come mondo della scuola, come mondo dell'istruzione, è nata anche perché in questi ultimi 20-25 anni la scuola è stata messa in ginocchio. E oggi purtroppo si raccolgono i frutti amari di questi colpi che sono stati inferti alla scuola perché la crisi è anche crisi di intelligenza, è anche crisi di conoscenza, è anche crisi di investimenti nella conoscenza. Lo stesso da una sua lettura di questo momento no. Ha cambiato tutto, soprattutto oggi quello che pesa sulla situazione dell'istruzione è certamente la situazione generale dell'economia, la situazione generale della società. E chi vive l'ambiente scolastico giorno dopo giorno fornisce le indicazioni per ottenere i possibili miglioramenti. Bisogna cambiare rotta, bisogna tornare a investire nella scuola, bisogna tornare a investire risorsi in maniera razionale ovviamente cercando di dare nuovamente ad ogni singola realtà scolastica una guida innanzitutto più presente, e parlo anche dei dirigenti scolastici, dare ad ogni realtà scolastica grande e piccola la certezza di una gestione regolare e di una presenza regolare. Se non si torna a questo io penso che la scuola comunque dovrà vivere ancora momenti molto molto difficili. Grazie. 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 Grazie.